Piatti tipici della Piana, ma anche piatti tipici della collina. Ristorante Ambrifano, Ambrifi, Lenola, che cosa avete portato? Abbiamo portato un gnocco di patata viola, con una fonduta di marzolino di bufala locale, cicerche di campo di mele e granella di cristalli di miele. Piatto abbastanza elaborato. Ci abbiamo provato, speriamo che sia buono. Un piatto tipico della Piana, delle colline, che secondo te si abbina bene al Franciacorta? Questo sicuramente. A quale Franciacorta lo abbineresti? A un padosei ben strutturato.